Sono Stefano Accorsi e leggo i sonnetti di William Shakespeare nella traduzione di Roberto Piumini per Emos Audiolibri. Sono ripreso da antichi malori e con le dita, desolatamente, rifaccio il conto di molti dolori e li ripago tutti nuovamente. Ma se poi penso a te, amico amato, eccomi risercito e consolato. Buongiorno Stefano, ciao. Ciao. La prima volta con noi in sala di registrazione per questo audiolibro e cominciamo con la poesia, cominciamo con Shakespeare, com'è andata per te misurarti insomma con un genio, con Shakespeare? Beh, se uno la mette così, se uno pensa di misurarsi con un genio, è chiaro che è anche abbastanza demotivante. E' bellissimo da un lato e demotivante da un altro, però la cosa bella della scrittura di Shakespeare è che resta molto molto semplice, che è anche la difficoltà secondo me nel renderla in lettura, perché bisogna cercare di non essere enfatici, perché è una poesia che non regge il poetico, fra virgolette, e allo stesso tempo cercare di non essere troppo quotidiani. Non lo so, credo che abbiamo trovato una buona cifra. Poi ogni tanto c'è un po' di ironia, ma è bello, a un certo punto c'è un sonetto nel quale lui stesso dice praticamente mi chiedi perché le mie poesie non abbiano svolazzi, lazzi, formule nuove, e alla fine dice insomma perché io, lascia lo stile agli altri e io sarò l'amore per te. Quindi sono davvero semplici, come poi è semplice Shakespeare anche nel suo teatro, cioè semplice ma complesso perché non cerca una forma, cioè la forma... Vabbè adesso non posso mettermi a parlare di Shakespeare dopo tutti quelli che hanno parlato di Shakespeare. Quello che voglio dire è che potrebbe sembrare più semplice di quanto in realtà non è, però deve risultare semplice a chi l'ascolta secondo me. Abbiamo appunto affrontato i sonetti, quindi si deve rispettare la metrica, il verso, che per un attore contemporaneo è una cosa insolita ovviamente. Più divertente, più difficile? Guarda, per quanto riguarda i versi, io tra l'altro da tre anni porto in giro uno spettacolo in versi, che è tratto dall'Orlando Furioso. Quindi mi piace, mi piace molto, ormai diciamo che ho anche una certa dimestichezza e quindi non ho paura del verso, anzi anche nello spettacolo cerchiamo sempre di non fare la rima baciata, di non fare sentire tutte queste cose che risultano poi anche noiose e diventano una musica all'orecchio che toglie il senso. Quindi cerchiamo sempre di andare sul senso ed è quello che abbiamo fatto anche qui leggendo i sonetti, cioè rispettare la metrica ma andando sul senso più che sulla musica. Perché, tra l'altro poi è un audiolibro intero di sonetti, il rischio è quello che poi diventa tutta una musica uguale, che poi dopo uno si addormenta alla guida e non bisogna. Vanti, chi dalle stelle è favorito, la sua celebrità e i larghi onori. Io, cui fortuna non ha consentito, gioisco in chi gode i miei favori. I grandi favoriti vanno in fiore come fa la calendula assolata, ma dentro loro il loro orgoglio muore. Ad un cipiglio la gloria è passata, e il guerriero di gloriose gesta se, dopo mille vittorie, è battuto, per sempre privo dell'onore resta e tutto quel che ha fatto va perduto. Felice me, che amo e sono amato da chi non può lasciarmi o essere lasciato. Come appunto sai abbiamo scelto questa bellissima traduzione di Roberto Piumini, che è uno scrittore dei libri per bambini, ma anche lui poi poeta. E appunto nella sua premessa Piumini ci racconta che al di là appunto della traduzione letteraria lui ha cercato in qualche modo di renderci, di ridarci, restituirci quei momenti shakespeariani in cui visione, riflessione, passione e gioco fanno una vampa sola. E mi è parso, come dire, una sintesi bellissima. Ti riconosci in questa descrizione di Piumini? Leggendo hai trovato questo? Sì, assolutamente. Intanto è molto... Credo che questa traduzione faciliti l'interpretazione, perché è costruita in un modo molto semplice. Cioè, la prima volta che si leggono i sonetti sembrano complessi, perché ci sono molti incisi, però nel momento in cui se ne coglie la logica, la logica di scrittura metrica, ma anche emotiva, secondo me questa traduzione semplifica comunque la lettura per l'attore. La rende più vicina a qualcosa di detto che non a qualcosa di letto. Ormai parlo solo in rima. Grazie. Prego. Grazie.